Per me è un significato particolare, sia come cittadino mairanese ma soprattutto come persona che ha avuto l'onore e l'onere di fare il sindaco per 18 anni e quindi di vivere in sostanza anche la trasformazione di questa grande azienda da una dimensione più che artigianale e di conoscere anche una figura straordinaria, straordinaria nella vera accezione del termine perché Giampiero è un vero capricorno, è un uomo tenace, vulcanico, anticipatore, voglioso di realizzare in tempi stretti quello che la sua mente va a ideare e un uomo che ha saputo penso nel tempo dimostrare che quella che era la sua volontà, la sua voglia di misurarsi con quello che la natura e la società gli offriva poteva diventare una grandissima realtà. Io l'ho visto crescere in questo aspetto, non tanto nell'età, nell'età cresciamo tutti ma l'ho visto proprio trasformarsi, come ha trasformato la sua azienda in una dimensione veramente eccezionale e quindi per me è motivo di orgoglio essere qui oggi da amico ma soprattutto da cittadino che ha visto forgiarsi tutt'uno la sua azienda con una comunità che tanto gli ha dato ma tanto ha ricevuto da lui.